Ciao, benvenuti alla Fera di Torino, siamo qui in compagnia di Giselle. Ciao Giselle. Allora, anche se tu sei conosciuta, però ti chiedo lo stesso, autopresentati. Ma io sono un'autrice abbastanza anomala, nel senso che ho iniziato a muovere i miei primi passi dalla rete, dopodiché da lì sono passata dai racconti web ai racconti cartacei, poi alle prime antologie, ai primi romanti. Diciamo che mi considero un'autrice abbastanza indipendente. E tra i tuoi romanti, ce n'è uno al quale sei particolarmente legata? Ce ne vuoi parlare un attimo? Ma molto legata, Ecstasy Love di sicuro, perché comunque è un pezzo della mia storia, o almeno in parte. Nel senso che comunque racconto alla fine degli anni 90 e li racconto come li ho vissuti io. Quindi di conseguenza Ecstasy Love per me è un pezzettino, a cui sono molto molto affezionata. Quindi come li hai vissuti? Li ho vissuti, diciamo, da osservatrice di fenomeni, tra quale discoteca, abusi di sostanze non ben identificate come Ecstasy e via dicendo, però sempre sulle confine del divertimento lisergico e del divertimento, diciamo, pulito. Quindi io ho sempre cercato di mescolarmi alla folla in modo da rimanermi al di fuori. Ecco, questo è il tuo metodo, procedimento, metodo logico di osservazione, no? In questo rientra anche il tuo documentarti. Ecco, ci racconti invece l'ultimo libro che dite? Ah, l'ultimissimo, ultimissimo. Qual è stato, diciamo, il momento di documentazione? In genere, sì, ho scritto questo noir proprio di getto, nel senso che è uscito in meno di un mese, praticamente, dopo un lungo lavoro di documentazione attraverso la pudenza in locali, diciamo, promiscui, un po' particolari nella zona tra Bologna e Parma, insomma, comunque la mia zona, Emilia-Romagna in generale, diciamo così, e ho avuto modo di entrare in contatto con questa realtà che mi ha particolarmente colpito per le persone che la frequentano, che la vivono, e sì, ho incontrato parecchi personaggi interessanti. Beh, questo comunque è un omaggio al metodo, che è qui, assolutamente sì, allora, un saluto al tuo elettore, al tuo ammiratore. Un saluto da Eliselle. Mi raccomando, delirio.net per seguire anche la mia attività di giornalista web.